La nuova Ducati Multistrada 1260 Enduro ha beneficiato di una serie di importanti aggiornamenti a livello di contenuti elettronici. Il cruscotto rinnovato utilizza un display tft a colori 5 pollici ad alta risoluzione e un'interfaccia moto utente completamente rinnovata, più semplice, intuitiva e gradevole. Grazie al nuovo CMI è possibile modificare in modo semplice e rapido il riding mode in uso. Tramite il pulsante mode si accede ad un menu dove con le frecce up and down si scorre e si può scegliere facilmente il riding mode preferito. Con la stessa facilità è possibile tramite il pulsante load mode accedere alle quattro configurazioni di carico della moto e scegliere quella preferita dall'utente. Il tasto load mode è identificato dal simbolo sospensione e tutti i tasti mode enter, frecce di navigazione e tasto sospensioni sono presenti nel commutatore sinistro. Questa semplice regolazione di base permette di trovare la configurazione ottimale per la maggior parte dei piloti e le due condizioni di guida. Rimane comunque possibile la completa personalizzazione del riding mode per l'utente più esperto. Il menu di setting accessibile da fermo permette di modificare i livelli di intervento dei sistemi di controllo e i parametri di configurazione che identificano i quattro riding mode. La Ducati Multistrada 1260 Enduro rende disponibile all'utente quattro diversi riding mode sport, touring, urban e enduro. I sistemi che caratterizzano ogni singolo riding mode sono la potenza e il controllo del motore impostabile su tre livelli, uno a massima potenza e carattere sportivo, uno a massima potenza ma con un'erogazione progressiva, una potenza ridotta ideale per i tragitti cittadini ed off-road. Il controllo di trazione che controlla lo slittamento della ruota posteriore impostabile su otto livelli e disinseribile, livelli 1 e 2 dedicati all'off-road con un intervento limitato del sistema, livelli dal 3 al 6 dedicati all'uso stradale con un intervento crescente all'aumentare del livello, livelli 7 e 8 adatti all'utilizzo su strada bagnata. Il controllo di impennata in grado di garantire la massima accelerazione in sicurezza impostabile su otto livelli e disinseribile con un intervento crescente all'aumentare del livello. L'ABS impostabile su tre possibili livelli, livello 1 configurato per un intervento solo all'anteriore per un utilizzo off-road, livello 2 con intervento combinato anteriore e posteriore ridotto e senza rilevamento del sollevamento della ruota posteriore per consentire una guida sportiva, livello 3 con intervento combinato anteriore e posteriore e rilevamento del sollevamento della ruota posteriore con il massimo livello di sicurezza. Il sistema ABS è disinseribile da fermo solo nella modalità off-road. Il quick shift che permette di cambiare marcia rapidamente senza l'utilizzo della frizione, acceso in modalità up and down è possibile disinserirlo. Il controllo elettronico delle sospensioni dove è possibile intervenire in modo indipendente sulla regolazione della forcella dell'ammortizzatore entrambe su 5 livelli oltre ad adattare ed impostare il setting associato ad ognuna delle quattro combinazioni di precarico, pilota, pilota più passeggero, pilota più borse, pilota più passeggero più borse. Questi setup sono tutti impostabili elettronicamente con l'interfaccia ECMI e si vanno ad aggiungere alla regolazione del precarico della forcella impostabile manualmente. Le possibilità di regolazione delle sospensioni sono quindi virtualmente infinite, anche se la regolazione di base proposta da Ducati permette di trovare la configurazione ideale alla maggior parte degli utenti e la modalità di configurazione della moto è semplice e rapida. Anche per la Ducati Multistrada 1260 Enduro sarà disponibile la Ducati Link Up, recentemente rinnovata che permette di connettere la moto con lo smartphone. Con la Ducati Link Up è possibile avere sullo smartphone gli avvisi degli intervalli di manutenzione, il manuale utente, la localizzazione dei Ducati Store e inoltre è possibile registrare itinerari di viaggio e le performance e le statistiche dei viaggi stessi. Con la nuova Ducati Link Up è inoltre possibile scaricare la configurazione della moto sullo smartphone e modificarla a posteriore. L'utente può crearsi offline i vari scenari di viaggio andando a modificare i parametri dei singoli riding mode e la configurazione di load mode. Salvati gli scenari può decidere quale inviare la moto al momento della partenza. La Ducati Multistrada 1260 è dotata della piattaforma inerziale 6 assi Bosch che sostituisce la precedente 5 assi e permette una migliore determinazione della posizione della moto nello spazio. Queste informazioni vengono utilizzate dai vari sistemi di controllo di cui la moto è dotata, corner in AVS, corner in light, Ducati wheelie control, controllo elettronico delle sospensioni e rientro automatico degli indicatori di direzione che avviene in funzione dell'angolo di piega e della distanza percorsa. La Ducati Multistrada 1260 Enduro ha come dotazione di serie il sistema hands free che permette di accendere la moto con la chiave in tasca, il sistema cruise control che garantisce il mantenimento della velocità di crociera impostata dall'utente, un impianto a luci completamente a LED, tecnologia che permette di avere una luce più stabile in tutti gli utilizzi di guida, le corner in lights che si attivano in funzione dell'angolo di piega e permettono una migliore illuminazione della strada soprattutto in curva, il Ducati Multimedia System che permette di connettere la moto allo smartphone via Bluetooth e consente di controllare dalla moto la musica e di visualizzare i messaggi e le chiamate entranti.